Ciao a tutti, ciao ragazzi, questo è Brannino Mascherino, Mascherino Gaming Eccoci qua in un altro gameplay, sono ritornato, è un po' che non postavo un po' di video E comunque eccoci qua a farci un bel gameplay di Clash Royale Adesso stiamo aprendo questo baule e iniziamo a metterne a sbloccare un altro Dopodiché, 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 io proverei il mio solito mazzo che è sempre forte E' sempre forte, che online, ah un mio amico Marlene, magari dopo gli chiedo anche una 2v2, vediamo Ehm, vabbè, adesso proviamo qua Allora, Nikhil, vediamo un po' Nikhil, mettiamo mai in mezzo, esatto Uh, aia, partiamo bene, zappa Uff, speriamo non salte, aia, 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 aia Partiamo male qua Ho fatto un bel male lì Un gran bel male Allora cosa mi mette per canterare il dragone Cosa mette, cosa mette Fa il pollo e io gli faccio la torre così Ha, ha, ha Ops, ops, ops Ah beh, dai, mica male Allora, devo gestirmi benissimo il cavaliere perché Andiamo a caffoni di mongo così, vediamo cosa ci countera Cosa mette, niente, niente Beh, allora qua zappiamo Pam, tre colpi Se non era per la zappa ne vedeva due Vabbè, qua non ci stiamo difendendo Che facciamo? Mi sa che questo ha smesso pure di giocare Si è preso quel Ha detto, io contro No, la congelo no La congelo no Io contro uno con la congelo non ci voglio educare Secondo me l'ha pensata così E' bravo, bravo, bravo pollo Bravo pollo Che hai perso Così Adesso mettiamo la mongo E poi Ups, la congeliamo e Adieu Ma si piange Vabbè, easy, dai Ora Questa è andata Troppo pulita Troppo pulita Troppo facile Ritiriamo un premio Cosa c'era? Guarda ritirare Soldi Sacchi di soldi Qui Oro Jolly Pipistrelli Clonazione Palla di neo gigante I Jolly com'è che li usi? Com'è che funziona? Cioè tipo volessi potenziare Funziona tipo a potenziamento no? Skin delle torri Soglia sbloccata Ok Ritira 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 Ok Ritiriamo qui Mi sa che ho sbloccato una skin di una torre Chiave dei bauli Che anche queste chiavi a cosa servono? È un po' che Che non gioca clash Ci sono troppe Troppe cose nuove Curatrice Buono Oro Gemme Arciere Pirotecnico Spirito elettrico Golem Gabbia per goblin Ok Sblocca più corone Per il tuo carico di stasore Quanto ne servono? Dieci Ce la facciamo Ce la facciamo Dai Continuiamo con lo stesso mazzo Io direi Cioè è il mazzo che ho sempre Mi ha un po' Un po' rotto Sì Però Continua a funzionare Sì Quindi Vediamo questo Così Iniziamo così Mia la tesla questo Infame Eh la tesla infamissima Ci sta Ah ci sta Mini pecchino Infamino Ah wow Dai metti qualcosa che solo magia in mano Eh ora gli ho proprio detto se hai una palla di fuoco ma non c'è Vabbè Se ce l'ho io Quella Piccola Prince Se ne va proprio via E andava di abbatterla quella perchè Sa essere bella infame Sa essere bella infame Allora metterà la tesla Questa qua infatti ha tante carte che non l'ho ancora proprio giocata Ok Ok Facciamo così Perché questo sta essere infamissimo quello lì esatto Lascia uno cimitero E se è carico lascia una cimitero pazzesca Enorme No veramente forte quello però si è sprecato di zero adesso Adesso giocherà la tesla ovviamente Lo sapevo perchè l'ho giocata lo sapevo già Allora Ah niente Allora Si è un mazzerillo princess Sato Sato Ora ci mettiamo questo Ci mettiamo questo E poi E poi Cafuddiamo Ah cavolo Il fatto che la tesla c'è Gli da la possibilità di dare quelle due botte E questo mi manda fuori di testa Ehm Allora 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 Eccolo Eccolo Vabbè lì l'ho esagerata Sono anche io un pollo Vabbè Todo nada Qui è un bel todo nada No 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 Proprio all'ultimo Non è vero Si è salvato così Questa la vedo dura La vedo bella dura questa Si è che questa ha vinto Si è che questa ha vinto Si è proprio di si Eh si eh si eh si eh si Questo qui ha ben che vinto Ma poi anche solo con quei Nada Nada Versa Versa Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Pace non si può vincere sempre C'è 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 Vabbè dai Vogliamo provare un altro mazzo Allora, cosa avevo? Questo, questo Questo Però non ha magia questo mazzo Non ha proprio magia Metterei la zap Poi inserire il cuccio Beh, in realtà addirittura toglierei il cucciolo forse Metterei il drago inferno E toglierei la specchio Piuttosto clono Piuttosto clonazione Se no Se no Una magia Tipo la palla di fuoco Beh, forse no Forse non palla di fuoco Forse di tre scheletrini O qualcosa comunque di leggero Veri questo Potremmo provarla Proviamola dai, proviamola Non ci costa nulla Allora Intanto il suo colpetto L'ha data Ecco Nooo Saltato No, hanno quella Non è vero Scusa, ma Quello lì mi ha fatto secco la macchina volante Ma non è vero Mamma mia Mi hanno fatto la torre così Non gli diamo nessuna reazione Non gli diamo alcun contentino Ecco Era lì Andata Salvato in corner Salvato in corner E mo Allora Stanno il razzo Altrimenti Lì la torre è andata Sata O palachia Eh, GLS Già lo sai Quanto è infame quella che Si sposta indietro Io la odio Io la odio, io la odio quella È tipo una principessa Ma ancora più stronza Muori Sì Ok Ben capito che Se gli facciamo la combo Lui è fregato Oh, guarda quanto si devia Perché Ha un range così ampio Che Mori Esatto Oh, ma quasi quasi qua Difendiamo Secondo me non ci arriva neanche La riusciamo a portare a casa così Oh Oh, la portiamo No 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 Minchia Al pelo Dai, un colpo al dato Ok Una Due Eh, ora devi alle queste Devi alle queste Guarda lì Guarda lì con la mongo Bam E abbiamo vinto E abbiamo vinto Satà Sì, la combo Scheletro gigante Mongolfiera È veramente Veramente infame Non ci puoi fare Assolutamente niente Ah Buono 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 Ah no Ah no Ma no Ah Certo Se avessi il pass royal Avrei la skin delle torri Ah Certo Boh Ho amici che Che si sono presi il pass royal Però 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 li prendiamo solo in giro Quindi eviterei di film il pass royal Del skin delle torri Sarebbe stato bello Se me le avessero Regalate Però Così non è Quindi Quindi va bene Così Va bene Dai Allora ragazzi Io vi auguro Una buona continuazione Spero che questo video Vi sia piaciuto E Se vi è piaciuto Magari potremmo farci Poi il prossimo video Che ci facciamo il torneo Sarebbe figo E Niente Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi